Allora siamo qua Ma durante le prove che abbiamo disturbato il maestro Rolando Panerai Alla mia testa No, non l'avete disturbato affatto Ma io penso che tu stai dicendo Abbiamo un visto Stai parlando così No, no, parla più forte Qui siamo in una sala che è di 400.000 metri quadrati Perché era venerazione nei confronti del maestro Era questa Dunque, allora l'ennesimo rigoletto L'ha mai contati quanti? Ne ha fatti tra cantata e regia? No, guardi Intanto devo dire una cosa Io non ho fatto tante recite di rigoletto Ho fatto più recite Che non so io Gianni Schicchi Traviata E Risilda Tutta questa roba qua Rigoletto meno Però Insomma da quando Mi è stata offerta La possibilità di fare La regia di questo rigoletto E io ho cercato di approfondire Insomma questo personaggio E un po' tutti i personaggi Mi sono un po' immedesimato Dentro così E ho scoperto Che ci sono certi riferimenti Che in altre occasioni Non avevo notato E che ho cercato di evidenziare E che il pubblico lo vedrà Insomma È come la vestizione Del primo atto Di rigoletto Che è E poi A me piace tanto Per esempio Il personaggio di Gilda Penso di Come dire Di Valorizzarlo Di evidenziarlo Questo personaggio Perché lei È un po' La faccio diventare Alla fine La madre di suo padre Ma è un rapporto Intanto È un rapporto Padre figlia Il tutto Il rigoletto Il resto Che è quasi contorno In questo rapporto Drammaticissimo Con un padre Che sequestra Praticamente Questa figlia E vittima Prima di tutto Di suo padre Forse Di suo padre Poi però Lei si accorge Che il padre Ha un odio Così Feroce Verso Quella persona Indegna Che lei ama Alla follia Perché insomma Un amore così Non è nemmeno Violetta Intraviata Ha un amore Perché lei More di tisi Ma questa Si fa ammazzare Perché Si sente Tradita Del suo amore Quindi È un amore Uno dei più grossi Che ci siano Secondo me Nel melodrama Quando si dice Che Verdi È veramente Il grande uomo Di teatro Dell'ottocento Qua lo si vede Tutto dall'inizio Qui lo si vede Tutto E allora Io ho pensato Che Gilda Secondo me Anche nel finale Io penso Che abbia un ruolo Più importante Di quello Che Fino a ora Insomma Lei muore Fra le braccia Del padre Praticamente È il padre Che sta fra le braccia Di Gilda È lei Che lo consola E che dice Stai tranquillo Che penso io A te Anche se muoio Penso a te Un capoglimento Di situazione Drammaturgica Però è reale Cioè c'era A me piace così Insomma E si figura Se poi non è pace Vuol dire che il pubblico Fischierà Che devo fare I miei dubbi di no Sa come Ho quasi una certa Adesso Lei sta per riprendere le prove Quindi abbiamo promesso Al direttore Di abbandonare la cosa Però una domanda In realtà Mi sorge veramente spontanea Come si trova a giudicare Chi fa a Rigoletto Un grande baritolo come lei Ma in questo caso Siamo abbastanza fortunati Che mi sembra che su tre cast Dovremmo avere tre signori Oh mio Dio ragazzi Dovremmo Leonucci Leonucci Sembra Sembra nato Rigoletto Insomma Più di lì Non si può andare Di fatti Devo dire Detto fra noi Insomma Quando io vedrò Leo Che noi ci conosciamo Da anni Anni e anni Io gli suggerirò Qualcosa Che ho fatto In questa produzione Se lui Se lui Ha voglia di seguire E bene E se no Lo faccia come Come lo stesso Va bene È quello Hai capito Insomma Sarebbe come se un regista Si intromettesse Quando c'era Lorenzo Olivier Che era il più grande Attore Amletto dovresti fare così Uno dice Ma ti levi Di torno Insomma Poi da uno che Ripeto Non è che io Non è che io Non è che io Rigoletto Per l'amor di Dio L'ho fatto Il primo Rigoletto L'ho fatto Nel 1948 Il 1948 In gennaio del 1948 L'ho fatto Con un tenore Che si chiamava Giuseppe Di Stefano E per me Soltanto il ricordo Della voce di Pippo Che ora Parlo di tutta gente Che non c'è più Insomma È qualcosa Di incredibile Chi dirigeva Se lo ricordo Mi pare Patanè Mi pare Ma non sono sicuro Perché Ma lo sapete Tutte le volte Che si parla Con Orlando Panerai A me scappa Quasi un po' Da ridere Perché Se uno non sapesse Che è vero Mi ricordo Quella volta Che lei diceva Eravamo Mi pare A Salisburgo Che diceva Dirigeva Foncarean Poi c'era La Maria Lei diceva Che era La Callas Ma questa Questa è la fantascienza Di una Lucia Che noi facemmo Alla Scala Giusto Con Di Stefano La Callas Che dirigeva Caraya E poi siamo andati A Berlino A Vienna L'abbiamo trasportata Un po' In tante parti Questa Lucia Non aveva dei brutti ruoli Dice Coperti Ed è Questo Vedete Siamo entrati In questo Ricordo Che due mesi fa Alla Scala C'è stata La commemorazione Della Callas Io ero invitato Il soprintendente Della Scala Che è austriaco Si ricordava Che lui aveva Otto anni Quando noi ci recammo Con questa Lucia A Berlino A Vienna E mi fa piacere ricordare Che per quattro giorni E quattro notti I viennesi Hanno fatto Hanno circondato Il teatro Di brande Sacchi a pelo Perché passavano Quattro giorni E quattro notti Per prendere i biglietti Qualcuno ha detto Eh beh Dirigeva Carayan Io ho detto Sì Però cantava Cantava la Callas Il cast era discreto E questi venivano Per la Callas Capito Più che altro Anche perché Carayan Ce l'avevano tutti i giorni A Vienna E invece la Callas Andò Per quell'occasione Andò E questi sono Ma qui col maestro Vanerai staremo Altro non riprendeste Le prove Nemmeno Ecco Le volevo So segnare una cosa Ci sarà nel terzo cast Carlo Salvarez Che in questo momento È baritono Di grandissimo livello Forse Uno dei numeri Uno due tre Tra i primi Ho sentito Ottimamente Questo ragazzo Prima nelle prove È una voce Meravigliosa Diciamo come si chiama Che io Non me la ricordo Se pensa Che Se tu dai pensai Che te lo dica io C'hanno dei nomi Così strani Ecco Adesso che me l'hanno detto Non me lo ricordo Ecco Ecco Che ho sentito in prova E mi sembrava Stupendo È stupendo Questo ragazzo E poi sai cos'è Sembra una spugna No Perché bello È una spugna Se io gli suggerisco Assorbe tutto Se io gli suggerisco Guarda questa frase Dilla in maniera più Più arrabbiata Perché qui il rigoletto È un attimo dopo Traccate È in quella maniera Una polaroid Bellissimo Bellissimo Mi fa piacere Perché Non parliamo di Gilda Che è Stupenda Ragazza Il tenore Non ne parliamo Voci splendide Però Io ancora Devo capire Chi è la prima compagnia La seconda La terza compagnia Questo È una Quando riuscirò A saperlo A governare A governare Avrò vinto Una bambolina Maestro Grazie mille E niente Prima Ecco Entra in scena A modi valletta Perché non abbiamo Un appoggio Ecco Una firma Sulla locandina Devo fare una firma qui? Non è che va in galera No No Sposta la cambiale Bianca Allora È una buona occasione Per ricordare Che comunque Manderemo in diretta Tutte e tre i cast Quindi Esatto Quindi siamo a po' Chiunque ci sia tanto Mi sembra Che il pubblico Cadrà bene Fate così E tirate su Il numero vincente In un momento Bravo Grazie mille maestro Ciao Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.